Ladies and gentlemen, K2022, una fiera fantastica finora, ma sentiamo direttamente le parole del CEO, Mirko Pegoraro, come è andata? Buongiorno a tutti, è andata molto bene, l'afflusso è stato sopra le aspettative, si è respirato un po' l'aria delle persone, dei visitatori che hanno voluto toccare con mano i prodotti, vederli dal vivo, parlare con le persone, quindi si è respirato un'aria molto molto positiva. Ecco, so che avete anche una novità di prodotto importante, avete presentato a questa fiera. Sì, per noi le fiere sono sempre occasione per presentare novità, abbiamo presentato Break Duo, che è un nuovo cambiafiltro brevettato da Break Machinery, che si basa sul principio di un funzionamento nuovo, quindi un filtraggio a pressione costante e con anche la possibilità di una regolazione dello scarico limitata rispetto alle macchie tradizionali. Quindi è una macchina che permette di filtrare con più efficienza le materie plastiche, le contaminazioni e permette anche di avere uno scarto ridotto rispetto ai principi tradizionali. Allora, il K2022 è capitato in un momento molto peculiare di mercato, con tante cose certamente inaspettate che tutti conosciamo. Secondo te come sta reagendo il mercato italiano e internazionale e come avete reagito voi? Beh, il mercato sta reagendo, sostenendo un po' tutte quelle novità riguardo al recycling. Il recycling è un tema forte che ha un trend in crescita nei prossimi anni, prevediamo. E noi abbiamo reagito proponendo sicuramente innovazione, quindi il nostro spirito è sempre quello di un'azienda che produce prodotti nuovi, soluzioni, sempre in linea con i trend di mercato. Allora, dimmi in due parole perché Break Machinery? Beh, esperienza e innovazione. Esperienza perché sono 50 anni della mia famiglia nel campo del recycling come produttore di materiale plastico rigenerato. E innovazione perché comunque le aziende del nostro gruppo hanno sempre spinto su innovazione e ha sempre investito moltissimo nel corso degli anni. Bene, allora chiudiamo. Se volete andare e avere ulteriori informazioni potete consultare il loro sito che è? Break Machinery.com Perfetto, allora stay tuned and top! Top!